Con il Ministro del Turismo, il Ministro Caravaglia, buongiorno. Buongiorno, grazie. Mi sente, sì, perfetto. Allora, si riparte, intanto si riparte, siamo già tutti più sollevati e soprattutto leggevo oggi che ci sono un sacco di prenotazioni, per fortuna, no? Quindi la campagna vaccinale ha aiutato moltissimo a superare questo brutto momento. È bene ricordare che non siamo ancora fuori, che vanno, insomma, tutte le tutele del caso. Però, Ministro, insomma, iniziamo a ripartire, a rimetterci in moto nel Paese, soprattutto sul fronte turismo, visto che siamo arrivati alle porte dell'estate, anzi, siamo in estate, praticamente. Certo, finalmente si riparte, ma si riparte perché adesso le regole sono chiare. I cittadini sanno di poter uscire, di poter andare al ristorante, insomma, cose che sembrano banali, che però hanno bloccato per parecchio tempo la ripartenza. Adesso le regole le abbiamo e si può ricominciare tranquillamente a prenotare, uscire. Insomma, ci aspettiamo una serena estate, ma soprattutto, grazie al fatto che c'è la vaccinazione, novità non da poco rispetto allo scorso anno, si riparte e non si chiude. Quindi, oltre all'estate, avremo anche l'autunno e poi da lì in poi non ci fermiamo più. Ecco, bisogna stare attenti perché speriamo poi di non avere invece un autunno, no? Come altre, come quello scorso, dove siamo ricaduti un po' nella difficoltà e nei contagi. E vorrebbe dire che i vaccini non funzionano. Non c'erano, appunto. Senta, si riparte, si riparte... E quindi, siccome funziona, no, non è così. Si va al ristorante, si prenota. Adesso però c'è questa grande questione del ballo. Come la mettiamo con le discoteche? Ma, allora, è l'unico settore che ancora non ha regole. Oddio, le regole le ha perché i protocolli sono stati fatti. È l'unico settore che ancora non si sa quando può riaprire. Va data anche qui una sicurezza, una certezza. Secondo me, ragionevolmente, si può aprire, dando una data, poi lo deciderà il Ministro Speranza, con dei protocolli anche un po' più serrati, però non ha senso tenere chiuso ulteriormente anche questo settore. Verranno fatte delle sperimentazioni, per quanto ne so, a San Marino, ad esempio, facendo entrare solo sostanzialmente con Green Pass, quindi o vaccinati o tamponati in sicurezza. Questo può essere un modo per capire come può funzionare anche questo settore. Senta, a proposito di Green Pass, come siamo messi? A che punto siamo? Perché questo appunto è, diciamo così, un documento che agevola e favorisce lo scambio tra i paesi. Naturalmente, se anche gli stranieri arrivano nel nostro paese, l'economia si rimette in moto. E' fondamentale proprio il ritorno degli stranieri. L'anno scorso, senza stranieri, noi abbiamo perso 27 miliardi di euro, quindi abbiamo la necessità di far tornare gli stranieri, soprattutto nelle città d'arte, come vengono chiamate, Firenze, Roma, Venezia. Qui, se non vengono gli stranieri, ci sono dei problemi oggettivi, soprattutto anche in quelle medio-piccole. Per cui, la necessità di far partire velocemente questo cosiddetto Green Pass, io preferisco chiamarlo e lascia passare, è essenziale. Sappiamo che a livello europeo si è data una livella, una data del primo luglio, però nel frattempo c'è chi si organizza diversamente anticipando. Per esempio, la Francia dice che chi è vaccinato può venire tranquillamente. Ebbene, noi dobbiamo fare lo stesso, altrimenti perdiamo di competitività. Siccome sappiamo che le regole sono queste, non vedo perché dobbiamo aspettare per forza l'ultimo centimetro. Quindi, a mio avviso, potremmo avere un po' più di elasticità nell'applicazione di queste regole e anticiparle, visto che sono assolutamente note. Le faccio un altro esempio. Si può venire col tampone in Italia, perfetto, però deve essere fatto entro 48 ore. Peccato che se una famiglia parte dalla Scandinavia in macchina, e non ce la fa in 48 ore. E cosa fa? Lo fa per strada? E il risultato va in Croazia. Ecco, sono piccole cose, però possiamo migliorare ancora. Senta, però a proposito del lascia passare, del Green Pass, il tema dei turisti che magari devono effettuare la seconda vaccinazione e capiterebbe nel lasso di tempo appunto in cui magari vogliono venire in Italia, è un tema, no? Perché non abbiamo ancora capito, poi c'è tutto il tema delle regioni, ognuno si muove per conto suo, se potranno essere vaccinati oppure no nel nostro paese, stessa cosa vale all'inverso. Cioè per gli italiani che magari hanno la doppia dose nel momento in cui vorrebbero partire oppure hanno già prenotato da un'altra parte. Qui ecco c'è un po' da vincolarsi, insomma capire come poter fare. Penso che i ministri della salute europea troveranno un punto di caduta anche su questo. So che si incontrano in settimane, quindi dovrebbero trovare un punto di caduta. Però è banale questione di buonsenso. Tutti sappiamo che c'è una certa flessibilità nella data della seconda dose. Adesso, santa pace, se uno va via tre giorni può anche organizzarli per farlo prima o dopo. Se uno va via 15 giorni, idem. Certo che se uno sta via tutta la stagione tre mesi è un problema. Ma questo è un'eccezione, non è la regola. Per cui vanno trattate le eccezioni piuttosto che la regola. Senta, che tipo di stagione turistica lavorativamente parlando con gli stagionali avremo? Perché stiamo leggendo da diversi giorni che alcuni settori faticano a reperire personale. Camerieri, ne dico una per tutti perché c'è sempre quel problema che in molti dicono noi abbiamo magari il reddito di cittadinanza e preferiamo tener quello. Come si esce da tutto questo? Ma questo è un gran problema. Tutti gli operatori che incontriamo ce lo segnalano. Dalla Puglia, al Veneto, alla Calabria, al Piemonte. Quindi è un tema diffuso in tutto il paese. Noi sappiamo che il turismo per definizione vive anche di stagionalità. Perché così è, è noto. E quindi abbiamo la necessità di avere personale stagionale. E' certo che se l'alternativa è stare a casa senza lavorare diventa più difficile per gli operatori reperire personale. E qui si può agire in diversi modi. Da un lato la legge sul reddito di cittadinanza prevede che se uno rifiuta tre offerte si perde questa prerogativa. Cosa che non so fino a che punto sia mai stata applicata. Insomma, questa seconda parte della legge mi pare ampiamente disapplicata. Ma senza arrivare a questo punto a mio avviso sarebbe opportuno estendere una misura che abbiamo fatto per i lavoratori a tempo indeterminato che è la decontribuzione. Cioè, esemplifico, se un albergo fa rientrare personale che ha in cassa integrazione ha la decontribuzione. Quindi non paga i contributi, riduce i costi. E questo è un beneficio per l'albergo che può far rientrare personale per il lavoratore che prende di più si prende di più a lavorare piuttosto che in cassa integrazione e per lo Stato. Perché per lo Stato costa di più la cassa integrazione piuttosto che la decontribuzione. Quindi è una cosa buona e giusta che a mio avviso andrebbe stesa anche per un paio d'anni in là. Il problema è che questo non vale per gli stagionali. Ecco, secondo me andrebbe estesa questa decontribuzione anche agli stagionali di modo che lo stagionale possa avere uno stipendio un po' più alto e quindi a questo punto l'incentivo a lavorare diventa più efficace. Poi andrebbe, a mio avviso, ripensato un po' tutto il sistema. Perché l'intervento dello Stato deve essere temporaneo. Se l'intervento di sussidiario dello Stato come dice la dottrina sociale della Chiesa da temporaneo diventa strutturale allora fai guai. Fai un danno. Senta, Ministro, oggi sul messaggero c'è questo titolo vacanze rincari del 15% l'estero preferito al bonus parte che tratta l'articolo anche il PAS di cui abbiamo parlato le procedure più semplici Spagna, Grecia e Francia però c'è questo tema che in Italia quest'anno le vacanze costeranno il 15% in più rispetto all'anno scorso mentre in Spagna e Grecia i prezzi al momento rimangono stabili. Cos'è? Abbiamo riaperto e bisogna in qualche modo recuperare il tempo e il denaro perso? questo però può creare un problema. No, no, non è. No, dottoressa, non è così. Ci sono delle questioni oggettive legate alle restrizioni del Covid esemplifico se in spiaggia puoi mettere meno ombrelloni va da sé che cambiano i costi cambiano i costi per l'operatore della spiaggia e per l'albergatore che deve poi usufruirne però così prenotano all'estero purtroppo le restrizioni inevitabilmente però così prenotano all'estero dove si paga meno? Se all'estero se all'estero hanno delle restrizioni meno restrittive i costi aumentano in maniera inferiore è un cane che si morde la coda è sempre stato così la salute è un bene l'economia è un bene sono sulla bilancia e dobbiamo tener conto di come sta la bilancia e il bonus vacanze? il bonus vacanze misura che ha funzionato relativamente perché se abbiamo avuto questo è il dato inizio anno su 2 miliardi e 4 su 2.400 milioni spesi solo 800 milioni vuol dire che non ha funzionato benissimo e siccome è una cosa assolutamente pessima lasciare risorse non utilizzate oltretutto è debito abbiamo fatto debito per mettere lì questi 2 miliardi e 4 a nostro avviso vanno spesi tutti fino all'ultimo centesimo per questo motivo ne abbiamo esteso la possibilità di utilizzo per cui oltre all'albergo può essere speso il bonus anche presso l'agenzia di viaggio il tour operator di modo che le famiglie che hanno queste caratteristiche quindi un reddito un reddito particolarmente basso e è giusto quindi che abbiano questo aiuto abbiano più possibilità di spendere il bonus il nostro obiettivo è spenderlo tutto fino all'ultimo centesimo Senta Ministro l'ultima domanda volevo farle naturalmente sulla politica lei è un esponente di spicco della Lega adesso c'è questa idea della federazione di centrodestra che però sembra essere insomma solamente il primo step di quello che poi potrebbe diventare un vero e proprio partito che vede tutti insieme lei è immagino favorevole? sono favorevole ma poi lo dico proprio con totale serenità se uno guarda i sondaggi vede che il centrodestra è maggioritario quindi ha la possibilità di governare e vabbè dobbiamo dimostrarlo la prima cosa non litigare fra noi la federazione è un modo per farlo ma è una federazione o è qualcosa che diventerà un partito magari fra Lega e Forza Italia anche se lì ci sono diversi malumori perché Meloni mi pare abbia già detto no grazie è giusto che ci siano sensibilità diverse ci mancherebbe però organizzarsi e marciare uniti aiuta la cosa che non piace ai cittadini e agli elettori è vedere discutere litigare dividersi quindi la federazione aiuta a trovare maggiore serenità e più forza aiuta anche alla svolta moderata della Lega europeista? la Lega è un partito di governo e questo l'ha dimostrato negli anni ha una schiera infinita di amministratori governa regioni con ottimi risultati da anni e quindi siamo moderati nei fatti più che nelle chiacchiere e quindi va bene lei lo vede comunque come un inizio sa per caso se Salvini parlerà anche di questo oggi nel suo incontro con Draghi? ah non ho idea non ho idea va bene io la ringrazio dove si trova che vedo che ha un panel alle spalle se non sbaglio una bellissima location siamo nella masseria di Vespa vicino a Manduria è un posto meraviglioso immagino giusto appunto per parlare veramente meraviglioso il luogo adatto per parlare di turismo grazie grazie ministro Caravaglia adesso c'è Andrea Pancani coffee break noi ci rivediamo domattina arrivederci